Lasciateci io a casa di fare arredamenti su misura a casa tua perché tutti hanno preso armi pesanti perché io non posso No, io voglio stare contro Marco, non voglio andare Attenzione, arena sua, tre bianotra Oh, cazzo mi sta sparando Ma perché Marco che ha sempre a rompere i coglioni? Me lo dico forse Ok, come buona morte Cazzo che cosa è il volo Sì, ma Marco non può Marco non può Ma va, cazzo, jack and daddy, l'orco Uno Entrare una cazzo Arrivo, cazzo, non mi fa male Le smitragliate Marco è un armadio Marco è un armadio Marco che merda Marco è un armadio Marco è un cazzo Ma fa culo Madonna te di Oh, uno non può andare in bagno un attimo eh E di che buone Bro, a te con questo video devi andare in cesso un metro su trofale Ed è un po' Iba dai Aia, vaffa culo, ti guarda culo E tu ciro Ma vaffa culo, vado a cagare in mano casi Porca puttana Uno su scale Tre, grai, noto Ah vaffa culo Guarda che roba Non ho mai mai male No No Ma con colpo Niccolino Canve Ah, macaco Puffino Marco devo cagare un colpo, allora Si Attenzione Ma Dio E' possibile che risparmi un secondo Cazzè che sparmi Oh porca puttana, no ma fa culo, praticamente è, tre persone che entravano, tre sono morti, ma Gero Dio sparare da Grimona, che era anche Edo, che era, guardate Edo, ciao, 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 ma che smitraglione, ma non è morto, ma come ci sono tre negri, che schifo, ma va a far cazzo salti coglioni, ah Gero Dio cacciami un po' dopo caglina, no, attenzione, Madonna De Dio, c'è lo so, taglio il laser, taglio il laser, ma Faffa e Marco è camperato sul, no, del gesso, il trapporto, no, ti porto del gesso, no, ti porto fuori io, no, dai, stavo facendo la cacca, un po' di contegno per favore, Vaffanculo, stavo andando via, ciao Ciao Oh, da dove? Attenzione, corre su, fa un nostro Sì, non è... Quanti che di pane vuoi? Madonna Podoa Madonna Ehi, quanti hai qua? Io ho fatto i fuori quattro fino adesso Maria Verdi, ne ho visto qualcuno che ha seguito una retta fissiale No, 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 vai, sei per quattro per me, ora, uno in campo Pistoletto del cazzo Mamma matti Mamma matti Sapevo che eri qua maledetto infame Eh... Dì, dì, dì E perchè uno entra o no? Cacchino Cavolo ho proprio camperato in maniera assurda AIA Tanti Squadrone AIA Cacchino Nooo AIA Padate Sfido Io, calma la macchina Stavo piaccando, madonna Su Magari No Jikal Cacchino Cacchino No non c'è capito più niente ma vai in figa e allora incoglionita non è cominciato più in cazzo ma se è casinato ragazzi c'è una cazzo e una fada e uno in meno dobbiamo andare su il farnetto ma che cazzo no vaffa madonna no no e io calma in due no ma che cazzo ma che cazzo che è sta roba no ma vaffa da dietro anche attenzione attenzione marchino dietro non capisco più l'ho messo mezzo l'incoglionito no 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 petta petta no no male dito no baro quanti cazzo c'hai detto c'è quella tesi ma è casinato a sua dito no no dio bravo oh madonna 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 no 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 oh ma vaffa ma che è marco che sei preso madonna chi è stato ciao di silenzio attenzione attenta mi devo curare se no qua muoio è marco che prima o dopo una cellulata la cazzo caduto chi è il cazzo sei quel cazzo no 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 cazzo 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 no manca uno fuori sinestra madonna t'ho spalmato ciao c'è uuuh 8 adesso primo addio no che aveva vinto ma davanti 67 kg ma davanti 67 kg ma davanti io voglio oh prima vado i punti per Marco fai schifo il cazzo fai schifo il cazzo uuuuh e ho poi mi metriamo immediato proprio stragi oh guarda quanti punti che ti hai fatto fai schifo il cazzo Marco è ammissibile ora gare per ricevere eh oh ah vedo già qualcuno ha capito ah 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 davanti sono fatto di pompa e chi si avvicina è morto cos'hai podone ah e che è morto vuoi fare una pompa a chi si avvicina che schifo ma va cagare ho laggato ma dopo questa andiamo via ma podone te fa un po' schifo però eh 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 e beh edu no ma attenzione che c'è un afghano da niente ma non ho mai adesso è io ciao non ho mai 58 di ping adesso è adesso è ma non ho mai ma fa culo ci sei un afghano si oh orca puttana madonna no ancora il pezzetto in camperato edu al cazzo di torree marco ha rotto il cazzo che è la cacarella no farà che struzzo ancora lì vada vada tutti quanti ma vaffanculo che faccia da culo matti nascosto la ma che cazzo ma dai ma impossibile giocare così che cazzo fusi che cazzo ma dai che cazzo ma dai che cazzo ma dai che cazzo ma dai madonna oi si dovranno incamperarsi in duecento dalla scala madonna che si smerda davanti di mi anche io buonanotte sono morto edo edo sono qua ciao attenzione molto attivo oh mamma io seguo contro la marco ogni volta marco mi spada e ogni volta l'una fa un po' di un po' di un po' di un po' di oh stavo facendo un trogato grande no lonna che sverte madonna quante cazzo siete qua porca puttana dati in quattro io ho da te lo ci dico splendide sta faffanculo oh sei sbagliato dove sono io ma ti camperone di merda vabbè qua tiger è morto ma perchè marco si sconde sempre ma le dita voi per farlo fuori no no maledetti ma era barco 45 ma che cazzo no la 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 ce n'è un altro la 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 cazzo e nessuno è su qua che è il rio tutti morti no tu ha racconti sconda sconda madonna va ah pia da di vai ciao ciao ma vaffa marco su un testo qui a pedagli e vai c'è madonna vai 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 non poi a scala un aridivo marco marco che vacca tuoi 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 perchè marco? guarda tutti quanti puntai ma vaffa madonna io e marco stiamo lottando chiamo a marco edus è una merda con le ruote anche ma perché marco sei stato sempre madonna no vaffanculo beh non vi parliamo di marco madonna stavo per dire devo fare un tag due cazzo sono no madonna via 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 eruzione eruzione mamma che culo attenzione e e con questo abbiamo concluso grazie dell'attenzione e arrivederci bella raga